buongiorno siamo arrivati a che barra di inverso ricordate che vi dicevo che aveva senso fare i compiti e vi dicevo che poteva pagare e che potevamo arrivare in quest'area dove c'era un bel eccesso volumetrico e se non ve lo ricordate mi spiace andate a vedere il video precedente se invece ve lo ricordate abbiamo raggiunto nonostante tutto appunto il nostro sesto il nostro livello per la chiusura non solo del sesto t meno 3 inverso ma esattamente come vi raccontavo abbiamo superato anche il massimo a 43.481 dollari ne abbiamo fatto 43.540 ok e qui quindi abbiamo a 26 giorni di inverso la condizione necessaria e sufficiente per chiudere un mensile di inverso e che cosa abbiamo fatto quindi nel gruppo premium che chiunque può andare a verificare entrando nel gruppo premium nella stanza bitcoin analisi abbiamo programmato uno short e entreremo con una size di due tutto il resto come al solito e siamo entrati qua alle 14.52 su questa spike qua quando rimbalzato leggermente ok 14.52 potete andare a controllare siamo dentro questa candela qua ok e che target ho dato come target principale qui spiego come muoversi eccetera eccetera il target di sicurezza il primario era a 43.025 quanto abbiamo fatto 43.021 per adesso di chiusura ma siamo andati sotto abbiamo fatto i 43.199 ho dato anche un secondo target perché il tecnica 2 da un target di sicurezza il secondo è sulla media mobile in questo momento dinamico quindi si sposta come di consueto quindi potremmo ancora serenamente arrivare qui se arriveremo qui violeremo uno swing che ci dirà che cosa sta partendo di qua se soltanto un settimo t-3 che poi si rigirerà di nuovo a continuare a salire oppure magari se qualcosa di più non lo so per adesso e oltretutto come vi dico sempre con l'analisi evoluta noi abbiamo il tempo dalla nostra cioè riguardiamo questi due minimi questo è stato fatto a 42.240 e questo a 42.247 quindi partendo da questo minimo a quanto tempo siamo arrivati di t-3 solo a 22 barre e quindi abbiamo la possibilità di continuare ad aggiornare teoricamente i minimi se vogliamo andare direttamente su per altre due candele che chiuderanno alle 18.15 per la precisione e quindi c'è il tempo per arrivare qui o nei dintorni o esagerare e ci hanno fatto qualche cosa i dati perché io ho detto per sicurezza dato che eravamo già qua se volete mettere uno stop loss in pravi o pagate le commissioni dell'exchange fatelo o pagate le commissioni dell'etf tutto quello che volete la scelta è vostra non sta a me dare giudizio o altro io ascolto le persone per capire qual è la cosa più furba da fare in ogni caso è impattato in qualche modo nel frattempo l'indice dei direttori degli acquisti l'ISM e tutto il resto che sono notizie da 3 stelle sono partite alle 15.45 dunque questa è una 14.30 le 15.45 sono capitate in questa barra no non è cambiato niente aiuto come al solito sta squillando un altro allarme scusate se non un secondo che guarda cos'è fib sì no niente ok direi che è tutto per l'anteprima mi devo preparare a vedere se devo andare a fare un bel long su MIB e su DAX perché ha fatto esattamente il movimento che davo fantastico stiamo andando in tempo reale in gain vediamo se ci da anche un altro livello che è semplice questo qua ma calma e gesso che intanto non interessava al primo e stiamo andando al secondo e con due candele così rosse vado a calcolare che swing è stato violato mi provo a fare il resto del trading vediamo se stasera riesco finalmente a farvi vedere il grafico a candele giornaliere ma intanto chi ha fatto la riflessione giusta e che succede anche il DAX si devo andare proprio chi ha fatto la riflessione giusta ha guadagnato dei soldi chi era nel gruppo premium o chi entrerà nel gruppo premium potrà verificare se è vero quello che vi ho raccontato oppure se sono un fuffaguru e intanto il fuffaguru vi avrà dato un target di continuazione vi dice che per altre due barre si potrebbe continuare e abbiamo raggiunto anche il secondo target in tempo reale scappo a vedere DAX arrivederci